Musica Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video Oggi vi farò vedere un lavoretto di Halloween Però non vi elencherò tutti i materiali Perché li andrete a scoprire da soli durante il corso del video Cominciamo Allora, per prima cosa ci serviranno delle stampe Io ho scelto queste qui che sono delle silhouette nere Ma voi potete prenderle di qualsiasi colore Ma vi assicuro che col nero viene meglio Ho preso una casa stregata e delle zucche Di qualsiasi tipo E poi le andrò a stampare E potete scegliere qualsiasi soggetto In questo caso di Halloween Ma non per forza E lo potete scegliere come volete In queste immagini c'erano anche i pipistelli Io ho preso solo la casa Le ho stampate Proporzionate al mio barattolo Sì, perché ci servirà un barattolo Di qualsiasi forma Di qualsiasi grandezza E adesso le andrò a ritagliare Come potete vedere le ho proporzionato Questo è il mio barattolo Ma lo potete fare anche più grande Anche più piccolo Di tutti i tipi Le zucche invece le ho fatte abbastanza piccole Perché ne metterò tante Adesso andiamo a ritagliare Io userò queste piccole forbicine Ma voi potete usare anche quelle grandi Come vi trovate meglio Questo sarà il soggetto del mio barattolino E lo andrò ad attaccare Come potete vedere l'ho ritagliato Ma se non vi trovate bene con le forbicette Potete anche stamparlo più grande E farlo anche su una bottiglia di vetro Dove volete Ho ritagliato anche le zucchette Ne ho tagliate tante Perché le ho fatte molto piccole Lo andremo ad attaccare Con la colla Vinavil Con un pennello E non vi preoccupate Se rimarrà del bianco Perché quando si asciuga Diventa trasparente Adesso la vado a versare E la richiudo Mi raccomando Chiudete sempre la colla Perché si secca poi Adesso andiamo a prendere Il nostro barattolo E il nostro pennello E andiamo a spargere la colla Nel punto in cui dovremo attaccare La prima immagine In questo caso per me è la casa Non ne mettiamo tanta Perché sarà solamente la base Questa Prendiamo l'immagine E la facciamo aderire Meglio possibile Con le dita Nel punto in cui la vogliamo attaccare Così però non basterebbe Quindi non rimarrebbe tanto attaccato Quindi con un altro po' di colla Andiamo a spargerla sopra Come vi ho detto prima Poi diventerà trasparente Mi raccomando copritela tutta Bene bene Perché non si dovrà staccare Nemmeno col calore E dovete attaccare Tutte le immagini Che ci volete mettere In questo modo Ho attaccato la prima cosa Adesso continuiamo con le zucchette Che metterò sparse Sparse E ne metterò a tante Perché ho fatto questa cosa Con molto piccole Sono le zucchette E voi potete farle anche più grandi E metterne di meno Facciamo lo stesso identico procedimento Adesso ho attaccato Tutto quello che ci volevo mettere Si sta asciugando Pian piano la colla Solo in alcuni punti È ancora bianca Ma adesso si Diventa trasparente Perché non mi sa un po' di più Per farla attaccare bene Non vi preoccupate Se rimarrà il segno della colla Anche se è asciugata Perché poi Dopo non ci servirà Il tappo invece Non ci occorre Perché Sarà una lanterna Vi svelo cosa sarà E ci servirà invece Una piccola candela Io avevo questa Ma potete metterla Di qualsiasi tipo Adesso vi farò vedere Il risultato Al buio Con la candela Accesa Questo è il risultato A me piace tantissimo E vi consiglio Se lo rifate Di metterla Soprattutto sul balcone Nella sera di Halloween Perché è una decorazione Molto carina E fatemi sapere Se ci avete provato A farla Il video di oggi È finito Spero che vi sia piaciuto Lasciate tanti like E iscrivetevi al canale Ciao Al prossimo video Ciao 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 Ciao